buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video allora oggi abbiamo fatto questo pochettino l'ho già aperto e andiamo a vedere cosa ho acquistato e ho preso queste perline tutti colorati da wish sono 100 e sono molto belle sono tutti questi colori pastello davvero molto belle carinissime e niente queste le ho pagate un euro se non sbaglio 100 perline sono molto molto utili poi vi faccio vedere il piccolo acquisto che ho fatto al mercato qui c'è una casa mia ho preso questo adesso vi faccio vedere che cosa ha questo qui l'ho pagato 50 centesimi quindi non potevo non prenderlo prima di tutto se vedete ci sono le numerazioni vedete ecco qua allora questo qua praticamente è una tovaglietta in silicone quelle che usano per fare i dolci le torte insomma perché vedete che c'è anche il segno del cerchio e io lo stavo cercando per il film così mi appoggio qui e non si appiccica in teoria in pratica non lo so quindi lo scopriremo magari in un prossimo video che la userò poi comunque per 50 centesimi mi sembrava anche un'ottima spesa visto che comunque è una sciocchezza poi per finire vi faccio vedere un ultimo acquisto che ho fatto all'emd vicino a casa mia e ho preso queste mega scatole portaminoteria che mi servono ed è molto grande adesso vi faccio vedere bene vedete c'è tutti questi scopparti e queste qui ho preso questa azzurra questa gialla che è sempre fatta allo stesso modo e questa grigia argento è bellissima che è sempre fatta allo stesso modo e quindi niente questi erano i miei tre acquisti spero che questo video vi piaccia se è così lasciate un bel like sotto questo video iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video e vi ricordo di cliccare vicino al tasto iscriviti sulla campanellina per avere sempre la notifica di un mio video di ogni mio caricamento di video e niente vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti